Ciao a tutti amici miei, vi vedo che state là dietro, che vi state scervellando perché non vedete l'ora di entrare nell'ultima era del digitale con i droni FPV volete scegliere DJI ma vi state impazzendo perché non sapete se scegliere i DJI Goggles Integra oppure i DJI Goggles 2 ebbene molti di voi lo sanno io per un bel periodo ho avuto a disposizione tutti e due i visori li ho utilizzati entrambi, hanno entrambi pro e contro di cui ragazzi veramente ne abbiamo parlato in tantissimi miei video che se non l'avete visto ve li lascio linkati qui sotto in descrizione ma oggi mi trovo qui per dirvi che con il passare del tempo alla fine mi sono trovato ad utilizzare sempre lo stesso tipo di visore e alla fine ho scelto loro, i DJI Goggles 2 ragazzi devo dirvi la verità, quando sono usciti questi visori ho trovato veramente delle cose che erano scandalose costano veramente tanto e con quello che pagate secondo me ci sono alcune cose che sono indecenti cominciamo con questa fascia, ragazzi guardate che cosa vi danno una fascetta che si collega con questi strappetti, calza malissimo cioè veramente non lo so, non capisco come quelli di DJI abbiano potuto fare una scelta del genere vi danno questo cavo del telefono secondo il team di DJI io devo prendere questa batteria caliamo un velo pietoso pure su questa batteria ma adesso ci arriviamo la devo connettere con questo cavetto e poi grazie al cavo del telefono la vado a connettere qui ai miei visori e questa batteria alla fine non so, me la dovrei mettere in tasca qual è il problema? Che questo cavo del telefono adesso qui vedete pure ci sono delle mie fascette è scomodissimo, alla fine andando a pilotare ve lo trovate sempre in mezzo alle scatole una grandissima rottura batterie, queste batterie ragazzi durano veramente pochissimo io non sono mai stato abituato a gestirmi le batterie del visore durante le mie sessioni di volo ma con questi visori sono costretto a farlo devo stare molto attento e mi devo sempre portare almeno un'altra batteria di ricambio se voglio utilizzare questo formato qui che è molto comodo nonostante questi visori siano comodi, siano compatti purtroppo in molti dei piloti che li utilizzano c'è un difetto particolare cioè i bordi si vedono un po' sfogati non si riescono a leggere dei dati in OSD in particolare quelli forniti dall'OSD DJI che si trovano in basso a destra che risultano un po' sfogati e qui è partita la diatriba delle mascherine cioè si è cercato di correggere questo difetto andando a cambiare gli spessori tramite mascherine su questo pure ho fatto diversi tantissimi video purtroppo la mascherina è un qualcosa di personale non è detto che quella che scelgo io vada bene ha un'altra tipologia di volto quindi purtroppo siete costretti un po' a fare i vostri tentativi quindi si migliora la situazione ma io non l'ho mai corretta tutti questi downside che avete visto mi hanno portato al momento dell'uscita dell'integra a scegliere quel prodotto come i visori di tutti i giorni perché con l'integra effettivamente io riuscivo a vedere meglio perché comunque hanno un fob leggermente più piccolo vanno un pochettino a ritagliare il feed fpv qui dentro e quindi mi vanno a correggere andando ad eliminare i difetti di sfocatura che c'avevo sui lati dei visori in più batteria integrata la fascia è migliore di questo scandalo qui non avevo il problema del filo del telefono tutte queste cose mi hanno portato ad utilizzare l'integra io vivendomi il mondo dei droni fpv a 360 gradi trovo veramente molto importante il fatto di poter sostituire le antenne e questo fattore qui è un qualcosa che ci danno solamente i DJI Goggles 2 che vedete qui in long range finalmente posso andare veramente a mettere le antenne che voglio le antenne che preferisco in base ai casi cosa che con l'integra non posso andare a fare quindi avendo questo valore aggiunto ho iniziato a cercare di capire come ottimizzare i visori e ho raggiunto questa soluzione che state vedendo qui a banco ragazzi che è una soluzione spettacolare che addirittura apportano l'usabilità di questi visori ad un livello secondo me ancora più alto dei DJI Goggles Integra perché i DJI Goggles Integra avendo batteria integrata hanno il cavo che passa dentro la loro fascia insomma fanno sì che alcune cose voi siete costretti a tenervele così quindi non potete andare ad evolvere i vostri visori i DJI Goggles 2 ok gli abbiamo pagati una barca di soldi ce l'hanno date con tutte queste schifezzuole qui ma alla fine posso andare a migliorarli come li abbiamo migliorati a parte la skin insomma che potete metterla ci stanno tantissime skin questa è quella di Flash Bomb che trovate linkata qui sotto in descrizione è un ricamino che potete andare a fare anche sui vostri Integra innanzitutto ho cambiato la fascia e ho preso questa fascia della Ethics che si collega con questo sistema a bottoncino che vedete qui molto comodo non ho dovuto togliere nulla ed è una fascia di altissimo livello ragazzi comodissima sulla testa vi calza benissimo potete andarvela a regolare insomma uno spettacolo in più se prendete questo modello che è fatto apposta per i visori HD come questi avete anche questa parte elasticizzata che vi consente di inserire la vostra batteria proprio del formato che vi serve a questo punto che succede che una volta cambiata la fascia dovevo capire come andare ad eliminare questo cavetto del telefono qui perché mi serviva un qualcosa di corto ho preso questo supporto di plastica che vedete qui ve lo lascio linkato qui sotto in descrizione che oltre a darvi questo supporto vi dà anche questo cavetto corto che vedete qui e questo è stato il primo step infatti ho utilizzato questo con la vecchia fascia cavetto corto e già avevo fatto un grosso passavanti eliminando il cavo del telefono poi una volta che sono passato a questa fascia ho eliminato questa custodia di plastica qui che non mi serviva più ho messo tutto qui ed ho utilizzato il cavetto se ci sapete mettere le mani sopra ve lo potreste anche andare a fare da soli mi rimaneva il difetto del FOV ma la DJI finalmente ha sfornato questa mascherina che è la V2 che vi lascio linkata qui sotto in descrizione con la quale finalmente ho raggiunto il risultato migliore ci tengo a specificare che non ho ancora risolto la leggera sfocatura che vedo soprattutto nell'angolo in basso a destra ma avendo lo SD custom ve lo sistemate bene vi mettete i dati della telemetria che vi servono nei punti in cui avete a fuoco e poi ragazzi vi posso assicurare che una volta che volate io sono sempre concentrato nella parte centrale del feed FPV gli integra hanno un grosso vantaggio perché si vanno a spegnere mentre invece questi nonostante ci sono alcune situazioni in cui spengono gli schermi perché hanno un rilevatore di prossimità qui ma alla fine io ho visto che non funziona più di tanto perché gli occhiali ce li avete sempre addosso e alla fine lui percepisce come se li state veramente indossando e difficilmente spegne gli schermi cioè succede solo quando li poggiate da qualche parte su un tavolino eccetera quindi mentre gli integra vanno a spegnere parte un contatore che posso annullare ma spengono effettivamente il visore questo comunque rimane acceso bippa per dirvi che non lo state utilizzando in certe occasioni quando il visore sta fermo ma insomma ragazzi in soldoni andate a scaricare le vostre batterie quindi per i miei voli comodi tutti i giorni sessioni di freestyle ho coperto il tutto con due batterie della DJI in altre occasioni in quando ci vado a lavorare con i droni che voglio stare tranquillo o voglio portarmi a casa dei voli in long range in estrema tranquillità non farmi problemi di come gestire la batteria dei miei visori allora lo sapete perché già l'ho portato sul canale ricorro a questo bellissimo accessorio della speedy b con il quale posso andare a collegare qualsiasi tipo di lipo e ciò durata infinita senza problemi di batteria anche questo c'ha il cavo lungo se volete utilizzare solo questo potete andarvi anche a farvi una soluzione andandola a mettere qui sulla fascia quindi personalizzarli ancora più io mi trovo più comodo con questa situazione qui che avere quest'altro diciamo accrocco ho messo qui più la batteria quindi quando mi trovo ad utilizzare questo accessorio a quel punto ripasso in modalità batteria in tasca quindi collego qui collego il filetto ho la batteria in tasca però almeno non ho più problemi di autonomia alla fine con questa soluzione qui ragazzi ho corretto tutti quanti i possibili difetti che questi visori ci avevano utilizzando a questo punto tutti i loro pregi in primis quello che per me è importantissimo è che mi è mancato nel corso del tempo con l'integra perché ripeto non faccio solo freestyle o indoor o cinematic insomma nei dintorni mi è mancato tantissimo andare a poter cambiare le antenne e poi trovo veramente molto comodo la regolazione delle diottrie in particolare se prestate i visori a qualcuno insomma in due secondi se li sistema e riescono a vedere mentre invece l'integra devo stare lì a andare a cambiare i vetrini certo mi direte tanto alla fine i visori li utilizza sempre il suo proprietario però grazie a questa regolazione posso andare anche a gestire le vie di mezzo tra una graduazione di un vetrino che gli integra utilizzano all'altro perché lì vanno di un punto alla volta io qui volendo posso pure andare a beccarmi essendo una regolazione progressiva posso andarmi anche a beccare la messa a fuoco precisa che c'è tra un punto e l'altro se vi piace l'immersività questi sono leggermente più immersivi finalmente sono soddisfatto e soprattutto ta posso andare a cambiare le antenne e queste che vedete sono le antenne che utilizzo tutti quanti i giorni che sono le Flip G2 per questo video è tutto e non mi resta altro che augurarvi buoni voli mi raccomando gas sempre a bomba e noi ci vediamo al prossimo video like ragazzi e da lì e ciao 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 ciao